Pasquale, entra nel pinnetto! Guarda, io non so come dirtelo, ma ho appena visto Carmela mano nella mano con un ragazzo. Sono entrato in un albergo. Ma che stai dicendo? Quale albergo? Sei sicuro non fosse il fratello? Pasquale, il fratello di Carmela pesa 120 chili. Questo ragazzo ha muscoli ovunque. Guarda nello specchio, ti appare il video. Voglio il fallo di confronto. Mamma! Ciao! Mi saluti pure. Allora, ma metti che si incontrata? Che è successo? Sì mamma, possiamo mostrare il video a Carmela? Ecco qua. E' tarolittica non era buona. E allora? Allora che? Stai mano nella mano con un altro. L'ho fatto solo per avere una tua reazione. Quale reazione Carmela che se non mi dava nel video io non l'avrei mai saputo? Cosa hai fatto in quell'albergo? Niente? Che ho fatto? Ma soprattutto, isso, com'è fatta. Tu sei uscita dopo tre ore e non hai fatto niente. E che ne sai tu? Carmela, ti ha dato video per te. E ora ho voluto la tablet. E siamo stessi che lui non lo doniamo. Ma come mamma, uno tablet doniamo? Ma perché stiamo ancora a spiaggia? Che io fai l'occhista? Sono Filippo io. E allora vedi te l'ho chissata zitta. Ma questa amica che ti ha mandato i video non teneva niente da fare. Si può sapere che hai fatto in quell'albergo? Pasqua! Ma secondo te? I macchini dall'albergo con un pizzo e guaglione come a chi sta mette a giugare la carta? Ho saputo. E allora che mi ha domanda da fare? Io lo voglio! Un maron! Io lo voglio bene. Ti avete capito? Per me tu vuoi bene uno che mai hai conosciuto. Questo sta con te solo per denaro. Io sto con lui solo per i soldi. Ma come vi permettete? Io l'ho fatto per farlo in gerosire. E allora ho speso quella 100 euro. Non mi sembra il caso di fare una tragedia, eh? Carmelo, che vuol dire 100 euro? Ma è un cicolò. E chi è su Cicalone? Un cicolò? È un uomo che fa sesso a pagamento. Mamma, no, Cicalone. Ah, ha pagato perciò. A proposito, riprenditi la tua carta. Ma che mamma? Ma la carta è mia. Via! Io non mi muovo da qua. No, dicevo, hai la via del Cicalone. Mamma! Pasquale, ma tu davvero dubiti di me? Pasquale, io ho fatto tutto questo per noi. Pasquale, io ti amo. Carmela, anche io ti amo. E come mi chiama il mio Pasqualino? Tuna. Che viene da... Chiattona. Patatuna! No, no, Chiattona. Patatuna, mamma. Mamma. Io esco con Carmela. Me lo dai un bacio. E tu mi dai la carta di credito? Ma come cazzo fa? I love the way you like.